Ebbene, John, che cosa facciamo per questi poveri immigrati? Beh, non possiamo farli entrare tutti, sarebbe un disastro per l'economia, però... Io, 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 io... Ah, sì, ah, io... Io lo so, lo so, lo so, lo so, lo so... Qual è la cosa principale di cui non ce n'è mai abbastanza in questo paese? Ospedali? No. Biblioteche? Per piacere! Non ci sono mai abbastanza faichefiche e abbiamo troppe cozze del cazzo. Tu hai proprio esagerato, Karen. Allora, perché non facciamo entrare solo le immigrate faiche e rimandiamo indietro le cozze del cazzo? In questo modo risolviamo due problemi Come si dice, fottiamo due passere con una fava sola, no? Questo è il nome Tu cosa ne pensi? È incredibile Il nostro motto è... Non chazzeggiamo Gnocca 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 Aspetta Tu ritornate nei Slovenia Come stavo dicendo, il livello scolastico è il più basso degli ultimi 15 anni Sì, ma questo è perché i ragazzini imparano cose che nella vita non gli servono a niente Insomma, qui chi è che ha mai usato la matematica o le lingue? Ecco appunto Che i ragazzi comincino ad apprendere le cose utili Allora, se Kevin compra un etto di ganja giamaicana da Tony Ciccio Ha 480 sterle e soldi in bocca E deve dividerla tra 11 clienti Quanto deve farla pagare al grammo In modo da poterci guadagnare il 100% per pagare gli alimenti al figlio? Signor Ministro La situazione nell'Irlanda del Nord minaccia di sfuggire ad ogni controllo Ecco che parlo io L'unico modo per convincere quegli hindù a piantarla di ammazzare quegli islamici Ovviamente sono protestanti contro cattolici E va bene È di convincere una donna davvero faica a tirarsi fuori le bombe capezzolute per la pace Signor Ministro No, tu no, amore L'esercito costa ai contribuenti inglesi 4 miliardi e 200 milioni di sterline l'anno Il governo come intende ridurre questa spesa? Abbiamo deciso di ingaggiare lei Tim Sua maestà la regina Vostra maestà Posso presentarvi pali di membro del Parlamento del Stato Già, pochino Sei molto più gnocca di quanto sembri sugli spicci Te lo dico io La prossima volta che mi metto 50 pensi in tasca Mi sentirò onorato di avere la tua testa così vicina agli zebederi Non funziona niente Il numero di disoccupati ha il massimo storico Questo paese ha un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti d'America Che cosa pensa di Bush? Io amo Bush O almeno amo tutto quello che si avvicina ad essere un Bush O una Punani in generale Vuol fare un belletto, prego Pagnotto in cui regna la fregna L'influenza di Ali G aumenta sempre di più Il governo raggiunge un vantaggio di tutti Pagnotto in cui regna la definisce un'avvocata d'Ana Fesca Tutti i passi per anni L'influenza di funktioniert un'avvocata di tutti Aiцane di tutti Grazie.